la birra di oggi è una cric di lindemans ma attenzione è la cric di faccia bassa di lindemans infatti vorrei provare a fare un confronto con le lindemans di faccia un pochino più alta e si chiama proprio cric allora vediamo la scheda di questa birra abbiamo detto lindemans quindi siamo in belgio per essere precisi ovviamente nel paio ottenland quella piccola regione a sud sud ovest di bruxelles dove ci sono concentrati tutti i produttori di lambic anche perché fuori da questa zona non potremmo chiamare il prodotto lambic la lindemans in questione si chiama è semplicemente cric lo stile è una cric tre gradi e mezzo questa è una bottiglietta da 25 centi litri che ho trovato in un cash and carry a 2 euro e 80 il bicchiere che vi suggerisco di utilizzare è un tumblr il classico bicchiere associato tradizionalmente ai lambic o eventualmente io trovo anche molto utili per il lambic soprattutto quelli invecchiati il bicchiere a chiudere attivo po pallone cognac eccetera e si si tratta di un primo assaggio per questa versione di lindemans come dicevo lindemans ha due linee distinte ha tutta una serie di bottigliette da 25 centilitri di lambic aromatizzate alla frutta spesso sono in parte mosso lambic e poi tanto succo di frutta comunque strati alla frutta sono molto economici o comunque abbastanza economici e qualitativamente non secondo me particolarmente interessanti però vanno proprio presi per quello che sono cioè birra che tutto sommato costano poco ci possono far avvicinare al genere diciamo fermentazioni spontanee e tutto ciò che gli sta attorno senza appunto impegnarci troppo sono proprio birre poco impegnative d'altro canto poi lindemans che ha avuto poi negli anni secondo te del del novecento questo boom e si è trasformato in un birrificio molto molto commerciale da qualche anno sta provando a rilanciare una linea di birre di qualità un po più alta e infatti per esempio visto che stiamo parlando di cric quindi di birre alle ciliegie cito la cuve rené cric che fa parte appunto la serie cuve rené dove c'è anche una cause e per adesso che ci siano solo la cric e la cause e sono qualitativamente davvero un'altra cosa rispetto a queste bottiglie ovviamente hanno un costo un po più alto però si tratta di birra appunto di livello completamente differente alcuni contestano la presenza di questa diciamo doppia identità doppia linea di lindemans personalmente trovo il fatto che tutto sommato ci può anche stare dobbiamo sapere che ovviamente non sono paragonabili queste due cric nonostante il produttore sia lo stesso ma ci sono grosse differenze ora pensavo di degustare solo questa ma conoscendo abbastanza bene anche questa cric che ho bevuto anche recentemente pensavo di fare appunto un piccolo confronto tra le due cose innanzitutto la grossa differenza proprio a livello produttivo è il fatto che qui ci sono ciliegie in ammostamento vere ciliegie in ammostamento poi tutto in botte a invecchiare mentre qui c'è una parte di monstola mica che poi viene aggiunto del succo di frutta del generico aroma alla ciliegia e poi non viene fatto invecchiare ovviamente quindi già ci sono delle differenze di base abbastanza interessanti poi possiamo pensare anche all'estetica simile ma un po più curata in questo caso al fatto che ci sia poi comunque anche per esempio il tubo in sughero all'interno di questa è proprio perché è previsto anche l'invecchiamento saldo questa è una delle ultime bottiglie che mi resta è una cric imbottigliata nel 2014 tenendo conto che il lambic che c'è all'interno si fa un anno di fermentazione più non ricordo se sei otto mesi comunque quasi un anno di ciliegie a macerare all'interno appunto del mosto possiamo immaginare che sia una cotta credo 2012 fino 2012 2013 quindi insomma prodotto che incomincio già da bere qualche anno e che ovviamente poi rimetto a invecchiare per bermelo probabilmente fra qualche anno cosa completamente diversa per queste bottigliette che appunto si possono bere tranquillamente senza senza farsi troppi troppi problemi troppi scrupoli per quanto riguarda l'estetica appunto in questo caso c'è la carta metallica sul tappo e sul collo della bottiglia tappo che poi dopo apriremo e vedremo ci sarà comunque sotto il logo l'indemans ma c'è sempre comunque una discreta attenzione per i particolari da parte dell'indemans doppia etichetta con il logo sempre nel front l'indemans sempre un po' arzigocolata in questo stile un po' liberty la bottiglia mi piacciono tantissimo le etichette di lindemans lo ammetto e sul retro generiche informazioni su birra belga sul grado alcolico ingredienti e così via ora vediamo se c'è sì c'è anche la descrizione in italiano cosa che invece non c'è nella versione invece dell'acqua vera nei dove c'è sempre la descrizione solo francese e fiammingo anzi in questa c'è anche un pezzettino in inglese però generalmente ci sono sempre in queste due lingue che sono un po' le lingue parlate in belgio in ballonia e appunto nelle fiandre in questa qua che appunto è commercializzata per la grande distribuzione anche in italia infatti l'ho acquistata in un supermercato italiano c'è infatti scritto anche in italiano la crick lindemans è una lambic sarebbe più corretto un lambic maturato in botti di rover per almeno un anno e richiede da puro succo di ciliegia ecco quindi si è fatto un anno di botte e succo di ciliegia in questo caso un anno di botte e poi 6 8 mesi di ciliegie lasciate a macerare all'interno della della botte dove appunto c'è stato il è stato posizionato il mosto il risultato è una deliziosa birra fruttata di lunga tradizione dal gusto agrodolce tipico delle ciliegie fresche servire fresca non viene indicata la temperatura di servizio l'utilizzo del termine fruttata io lo trovo molto molto fuorviante nelle birre perché mi capita soprattutto lavorando in un pub di persone che mi chiedono birre fruttate e intendono ovviamente birre dolci in realtà l'aggettivo fruttato legato a una birra è legato solo all'aroma quindi posso annusare la birra e sentire un profumo che mi ricorda della frutta quindi per indenerci le ipa sono birre molto fruttate soprattutto certi tipi di ipa sono molto fruttate ma non sono birre dolci ovviamente quindi una birra fruttata significa il profumo di frutta ma può essere amarissima o dolcissima gli ingredienti c'è acqua puro succo di ciliegia malto d'orzo zucchero frumento aroma lupero dolci dolcificanti interessante il succo di ciliegia viene prima di malto d'orzo quindi ci sarà siccome gli ingredienti vengono scritti in ordine decrescente di quantità c'è più succo di ciliegia che malto d'orzo all'interno di questa birra il che ovviamente è tutto dire cosa che ovviamente non avviene per quanto riguarda la la cricla cuvere né ok apriamo quindi la bottiglia non c'è praticamente fondo quindi la verso completamente allora per quanto riguarda l'analisi visiva di questa birra una schiuma abbastanza generosa e anche abbastanza persistente abbondante il colore è non è propriamente bianca perché tende un pochino al rosa la texture delle bolle è abbastanza fine diciamo la birra è un colore rosso allora rosso tecnicamente è corretto come descrittore non è corretto come descrittore quindi potremmo dire un ambrato però qua andiamo sullo scuro ci avviciniamo quasi quasi al colore mogano così viene definito solitamente il colore di queste birre passiamo quindi al naso allora non è che ci sia molto da cercare con il naso l'intensità è bassa e medio bassa ma direi proprio bassa e l'unica cosa che si sente è appunto questo fortissimo profumo di succo di frutta alla ciliegia quindi non c'è nient'altro di più da cercare con il naso come abbiamo visto dopo l'acqua l'ingrediente presente in maggiore quantità è un succo di frutta alla ciliegia quindi questo è il profumo prevalente di lupolo comunque non i sentori floriali non c'è praticamente traccia molto buono questo succo alla ciliegia anche in bocca effettivamente c'è un'apertura molto dolce una carbonazione elevata c'è una frizzantezza che sta molto molto bene che solitamente effettivamente non associamo ai succhi di frutta che sono sono fermi sono non sono piatti c'è effettivamente qualcosa che ci ricorda la birra si c'è non sopra non all'inizio soprattutto nella seconda parte diciamo della della bevuta perché appunto per la prima parte c'è semplicemente questo dolce dolce dal dolce poi la cosa che subito notiamo è un buon frizzante e poi sì c'è un pochino di malto un leggero leggero luppolo ma davvero molto molto leggero la cosa principale che avvertiamo in bocca è semplicemente questo dolce e questo sapore di frutta e di ciliegia in particolare sì ecco c'è qualcosa che ricorda la birra ma c'è poco poco di acido effettivamente l'acidità che una cosa che io mi aspettavo questo tipo di birre e che per esempio nella lindemans pom quella mela è molto presente ed è abbastanza spiccata ovviamente in questo caso manca non significa che non sia una buona bibita però ovviamente siamo molto lontano da altre cric e dai lambic in generale nel senso che anche la componente acida è molto molto leggera la principale differenza però tra questa ciliegia e questa ciliegia è il fatto che qui stiamo parlando di un succo di frutta quindi è appunto molto dolce molto abboccato sempre semplice da bere in questo caso sono ciliegie lasciate mesi a macerare all'interno del mostro della birra il che genera tutta una serie di sensazioni prime tra tutta tra tutte la stringenza che ovviamente non troviamo la prima caratteristica che secondo me colpisce quando viviamo questa cric ma anche la cric di boone la mariage parfa di boone dove ci sono ciliegie che vengono lasciate a macerare all'interno del mostro della birra per mesi all'interno della botte questo genera tutto un mix sia di acidità molto spiccata ok sia il fatto che comunque la birra incomincia piano piano a lavorare sul la polpa della frutta finché appunto non restano dopo tutti questi mesi resta solo praticamente il nocciolino nella ciliegia che peraltro contribuisce dando in certe birra dai sentori anche che vanno un po verso il legno beh tutte queste mix di acidità stringenza e di sensazioni bocali particolari non le troviamo ovviamente in questa birra qua che altro non è che potremmo pensarlo un cocktail con una birra o una belgia nail e appunto un succo di frutta e il che non significa che non sia un buon prodotto semplicemente stiamo parlando di complessità completamente differenti e vanno appunto prese per quello che sono questi due prodotti questa appunto è la cric di lindemans ditemi cosa ne pensate se secondo voi un birrificio è corretto che tenga due linee così distinte se come credono alcuni c'è il rischio può di confondere il fatto che lo stesso birrificio faccia due prodotti così diversi tra loro e quindi una persona che assaggi per esempio questa lindemans cric possa pensare che poi anche la cui verene abbia lo stesso livello di qualità oppure invece crediate che sia corretto che il birrificio cerchi di amplificare il proprio pubblico quindi avere un pubblico un po più generalista o semplicemente che ha paura ad avvicinarsi a un prodotto così complesso e quindi ci arriva per gradi se vi devo dire la mia secondo me molte delle birre di lindemans vanno bene perché appunto ci permettono di avvicinarsi senza lo shock che magari molti di noi hanno avuto perché abituati a bere magari solo determinati birre più semplici o magari solo birre industriali e non possiamo proporre di passare subito queste persone a un lambico cosa di questo tipo mentre invece questo è un bel esempio perché ci avviciniamo piano piano a prodotti di complessità più ampia personalmente credo anche che ci sono le volte che ho voglia di bermi una bella birra un bel lambico una cosa molto complessa come queste e volte invece che ho semplicemente voglia di bermi una cosa semplicissima economica senza impegnarmi e quindi una cric del genere può andare benissimo ovviamente credo che la consapevolezza delle differenti tipologie di prodotti da parte del consumatore sia essenziale che dire fatemi sapere cosa ne pensate e se avete assaggiato magari qualche altra lindemans che sia appunto una cover n o una diciamo entry level questa era appunto la cric scald iscriviti al canale